la mia chiavetta o... eh, però la mia chiavetta anch'io ce l'ho sulla chiavetta però se lo passo qua ci va un'ora solo per spostarlo se ce l'hai sul disco provo a vedere se magari questo riusci a passare una fila meglio vale andiamo un po' a vedere se non è stato un 14 eh, ma quello ci aveva ronde un 14 una divisione e, tipo qua un amico non è un problema non è un problema la giro qua provascio si, né, io voglio fare una utilizzazione un determinato tanto non è un problema che si non è un problema Grazie a tutti.